Dal 14 al 19 luglio a Mesagne si svolgerà la Biennale Internazionale di Arte Contemporanea, Barocco Salentino. L'iniziativa è stata presentata nell'auditorium del Castello Comunale alla presenza del Vice Sindaco Giuseppe Semeraro ed è consulente alle politiche culturali e scolastiche Marco Calò, oltre al Direttore Artistico dell'Accademia Italia in Arte nel Mondo, Roberto Chiaverini. Sabato 18 luglio, con inizio alle 20, nella centralissima Piazza Orsini di Mesagne, adiacente al Castello Normanno, saranno consegnati gli altri riconoscimenti d'arte contemporanea Apollo e Daphne, omaggio a Gian Lorenzo Bernini, oltre ai riconoscimenti per la cinematografia e il teatro Baldolai e gli altri riconoscimenti per l'impegno sociale e il pensatore. Tutti gli artisti insegniti partecipanti alla Biennale Internazionale di Arte Contemporanea esporranno le proprie opere dal 14 al 19 luglio 2020 presso le Sale Nobili del Castello Comunale di Mesagne, l'ingresso al pubblico è libero.